150 150 un numero che ci sta facendo riflettere sul momento che stiamo attraversando 150 non è solo l'età del nostro paese ma è una cifra che ci mette paura si riaccendono i riflettori sulle sorti dell'Italia come uscire da questa crisi il compleanno del nostro paese cade in mezzo alla bufera partiti politici inefficaci nel gestire la crisi uomini ed è nel pieno sonno della ragione giovani spenti e con poca voglia di fare vecchi sempre più svegli e abili a mantenere quelle poltrone così care alla classe dirigente italiana un sistema che ha detto basta troppi giochi di potere pochi i fatti positivi per il futuro dell'Italia una situazione allarmante che ci vede fermi in mezzo alla bonaccia senza un filo di vento come ha affermato Antonio Luisi rappresentante degli studenti al CdA della Bocconi quest'oggi abbiamo lanciato più che un augurio una proposta quasi una scommessa il tentativo forte e determinato di in qualche modo commemorare i 150 anni trascorsi ma far di tutto per rimpossessarsi degli anni a venire questa è la sfida che dovrebbe partire da un Ateneo prestigioso come il nostro tentare in tutti i modi di fare irruzione come abbiamo detto qui oggi irruzione violenta, non violenta, irruzione ragionata irruzione complicata per carità ma irruzione decisa nelle stanze in cui si prendono le decisioni io lo ripetevo anche prima il rischio oggi è evidente quello di appartenere ad un partito di minoranza noi giovani, noi under 25 che sta all'opposizione di quello che è un partito di maggioranza che io come altri definirei un partito dello PSQ il partito dello status quo in cui si sono federati ed alleati personaggi dagli interessi differenti ma che hanno privilegiato l'interesse all'autoconservazione questo significa vivificare una commemorazione fare in modo che i 150 anni e la costruzione del paese siano un monito per ricostruire il paese che oggi vive onestamente un momento emergenziale spetta a noi giovani rimettere tutto in ordine ripartendo dall'umiltà, dalla saggezza e dal rispetto di chi ci ha permesso di essere una nazione cosa siamo disposti a fare per il futuro del nostro paese?